Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa top 5 molto speciale, infatti qui con noi oggi abbiamo Trainer Tia Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa top 5 dove andremo a parlare dei migliori momenti dei giochi di quarta generazione Mi raccomando lasciate un commento qui sotto a fine video scrivendo la vostra personale top 5 Prima di iniziare col video vi ricordo che sul canale di Tia in questo momento è uscita una top in collaborazione con me riguardante l'anime di quarta generazione, quindi finito questo video correte sul suo canale che troverete in descrizione e commentate anche sotto al suo di video oltre ovviamente a iscrivervi al suo canale Inoltre se volete altri video o collaborazione lasciate tanti bei mi piace e un commento positivo Iniziamo subito Tutti abbiamo passato ore su ore a scavare e a prendere a martellate le pareti dei sotterranei Nella vaga speranza di trovare dei fossili interessanti ma tralasciando le sclerate quando crollavano le pareti scoprire l'esistenza di una sinno sotterranea fu credo un grande shock per tutti oltre che una piacevole scoperta ed una fonte di intrattenimento in più Certo il vecchietto del tutorial è parecchio fastidioso come qualsiasi vecchietto dei tutorial ma una volta superate le sue richieste spossanti difficilmente si proseguiva subito con la trama Almeno una giornata di sosta era necessaria per poter cercare fossili, pietre evolutive, le squame cuore dannatissime che erano introvabili per tentare di risalire in superficie in luoghi sconosciuti sperando di apparire in nuove zone per poi ovviamente rimanerci male Insomma, chi non ha passato i pomeriggi a rubare le bandiere delle basi dei propri amici mente spudoratamente Dai forza, tutti lo abbiamo fatto Al quarto posto troviamo il percorso per Nevepoli Va bene che da piccoli non poter andare veloci a causa della neve era alquanto fastidioso ma quanto diamine era figo quel percorso per raggiungere Nevepoli Forse stiamo parlando di uno dei percorsi migliori non solo di Sinnoh ma di tutti i giochi Pokémon e ogni volta arrivati a questo fatidico punto della trama solo la host di sottofondo bastava per rendere l'atmosfera magica e a tratti surreale Per non parlare poi delle bufere di neve che crescevano di intensità con l'avvicinarsi a Nevepoli aumentavano gradualmente quell'effetto di mistero che fa di questa zona una delle più suggestive di sempre nonché una delle parti migliori dei giochi di quarta generazione Piccola digressione In una delle poche case una donna consegnerà al giocatore una spettro targa con una stringa di dialogo parecchio insolita Dopo ciò in quella casa non si potrà più trovare nessuna donna Quando vi parlavo di mistero, beh, questo intendevo Dopo anni nei quali siamo stati abituati a team malvagi che rubavano Pokémon pacchi di ogni genere e massimo massimo un sottomarino per risvegliare il leggendario di turno assistere ad un vero e proprio attentato al lago valore fu un'inaspettata quanto gradita novità per quanto un attentato possa essere gradito ovviamente Finalmente un team malvagio che di sua spontanea volontà crea effettivamente qualcosa di catastrofico ci voleva davvero Oltre all'epicità del momento e al terremoto che si avverte per tutta la regione la scena post-apocalittica nella quale siamo catapultati è attenuata dalla ridicola pateticità dei Magikarp che sguazzano sul fondo del lago ormai prosciugato chiedendo silenziosamente aiuto Inoltre il personaggio di Saturno che personalmente adoro rende la battaglia all'interno della caverna del leggendario davvero interessante e coinvolgente Ah, e qualcuno ha mai capito come diavolo abbia fatto l'acqua a rigenerarsi così in fretta in quel lago? No, sul serio, dopo essere riusciti e rientrati mi pare che abbia ceduto qualche diga da qualche parte ignota di Sinnoh In seconda posizione troviamo la magnifica battaglia con Camilla Oh mio Dio, tanta tanta roba Secondo posto in classifica meritatissimo per una delle battaglie più epiche di sempre e di certo la migliore della regione di Sinnoh Innanzitutto si svolge in una delle leghe migliori per struttura e Super 4 che siano mai state create Poi i Pokémon di Camilla sono qualcosa di mostruoso Tutti e sei infatti hanno 31 EVS in ogni statistica Praticamente Pokémon da competitivo E che Pokémon? Vi cito solo Garchamp e Spiritomb Ma anche gli altri non scherzavano per nulla E finalmente arriviamo alla host Forse la migliore per quanto riguarda le host da battaglia Alla pari magari con quella di Lance Che, insieme a Camilla, si gioca il ruolo di migliore campione di sempre Il personaggio di Camilla è anche però molto più partecipe alla trama Molto più caratterizzato e soprattutto caratterizzato bene Il suo discorso prima e dopo battaglia è davvero pieno di una carica Che rende questa sfida una delle più leggendarie di sempre Forse questo è il momento più alto della storia di qualsiasi gioco Pokémon Sul Monte Corona con Cyrus pronto ad attivare la sua rosso catena Appare dal mondo distorto Giratina Pokémon dell'oscurità che per salvare il suo mondo Inghiottisce Cyrus in un portale conducendolo nel suo universo A questo punto parte la folla ricerca del personaggio di Camilla Del famosissimo Pokémon leggendario in una dimensione dove spazio e tempo non esistono Dove si può camminare sui muri e, parte secondo me leggendaria dell'intero gioco Scendere letteralmente una cascata come se la si stesse risalendo Si lo so, è più facile a dirsi che a farsi Ma comunque, aiutato dai Pokémon dei laghi e dopo aver distrutto Cyrus un'ennesima volta Partirà la sfida con Giratina che, una volta portata a termine Permetterà al personaggio e a Camilla di tornare sani e salvi sulla cima del Monte Corona Di Cyrus e delle sue manie di un mondo perfetto non si saprà più nulla Rimarrà per sempre rinchiuso nel mondo distorto Perlomeno potrà ascoltare per sempre la osta azzeccatissima Distort per così dire Che ovviamente calza a pennello col mondo distorto Ah, dimenticavo È uno dei pochi momenti nei giochi Pokémon dove c'è un piccolo jumpscare che male non fa Tutti i motivi che vi ho elencato sono più che sufficienti Per mettere questo evento al primo posto di questa spettacolare classifica In posizione bonus troviamo la cattura di Rotom Per fare ciò bisognava entrare in un posto davvero molto suggestivo Sto parlando dell'antico Chateau Su di esso girano diverse storie alquanto inquietanti e misteriose Ma penso che tutti le conosciate Ma torniamo a noi La cattura di Rotom era secondo me una cosa molto carina per via del posto e del come farlo apparire Bisognava infatti recarsi in una delle stanze ad un certo orario E parlare con un'inquietantissima televisione che ti fissava Fatto ciò iniziava la battaglia con Rotom Mi ricordo che al momento della sua cattura ero veramente molto felice Perché era secondo me molto raro Ovviamente questo era dettato dal fatto che ero molto piccolo E dato che si trovava in un modo diverso dagli altri Pokémon Pensavo fosse veramente qualcosa di molto difficile e raro da trovare Inoltre ai tempi non mi documentavo su internet E tantomeno avevo la guida Quindi trattavo Rotom come una specie di reliquia Tenendolo in un box separato insieme ai leggendari Finiti i racconti imbarazzanti della mia infanzia Direi che questo Pokémon mi è sempre piaciuto particolarmente Per via della sua peculiarità di cambiare forma E il suo artwork a mio parere è molto simpatico Inoltre è anche molto buono nel competitivo Bene ragazzi grazie per aver guardato il video Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace Un commento con la vostra personale classifica nei commenti Un saluto a Tia, ciao! Bene ragazzi anch'io vi saluto qua Spero che il video vi sia piaciuto Se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace A commentare e a iscrivervi al canale Se non lo avete ancora fatto Mi raccomando passate dal canale di Tia in descrizione Per andare a vedere la top 5 che abbiamo fatto sul suo canale E iscrivetevi anche al suo Mi raccomando anche i social in descrizione Per rimanere sempre aggiornati E noi ci becchiamo in un prossimo video! Ciao! Grazie a tutti